Si è acceso il gossip dell'estate. Secondo alcune indiscrezioni, Maddalena Corvaglia avrebbe ritrovato l'amore e sarebbe con un lui totalmente inaspettato. Estate. Stagione dell'amore. E lo è anche per Maddalena Corvaglia. A lanciare il gossip ieri è stata la presse. Notizia poi avvalorata anche dalla redazione di Novella 2000. L'ex Velina ha ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio con Steph Burns, chitarrista di Vasco Rossi, e la storia durata qualche mese con Alessandro Viani. Secondo i siti di gossip, la nuova coppia sarebbe una delle più glamour di Milano e si sono già goduti una vacanza a Portofino dove avrebbero di fatto reso ufficiale la loro unione. Il fortunato che è riuscito a conquistare il cuore della bella Maddalena sarebbe Paolo Berlusconi, fratello minore del Cavaliere Silvio, che conta ben 30 anni in più di lei. Presidente del Monza, Paolo Berlusconi ha alle spalle la stessa carriera. Esclusa la politica, di suo fratello Silvio, imprenditore ed editore di successo, ora ha incassato un'altra conquista. Il cuore della Corvaglia. Pare che i due si siano già concessi insieme una vacanza a Portofino dove hanno trascorso del tempo con Pier Silvio Berlusconi, nipote di Paolo, e la sua famiglia al castello di Paraggi, dove il figlio dell'ex premier vive. Secondo la presse, Corvaglia e Berlusconi si conoscevano già da parecchio tempo ma ora si sarebbero ritrovati e, nella cerchia della Milano Bene, la loro sarebbe già la coppia più chiacchierata e più in voga del momento. Vedremo quanto durerà e se per Maddalena, questa volta, sarà quella giusta. Grazie a tutti. Grazie per la visione!